E' venuto a trovarci qui al Future Channel Vittorio Maria Corelli, Vittorio buona giornata e benvenuto. Grazie mille. Tu di Torino, il Salone del Libro lo conosci però quest'anno come lo stai vivendo? Che esperienza vivi, che aria respiri? Intanto sono di casa quindi è bellissimo poter essere qua e presentare il proprio libro qua nella propria città. Devo direttamente sia di relatori ma anche di persone che partecipano a questo evento bellissimo. Poi oggi soprattutto quasi impossibile camminare tra gli stelle. Quasi impossibile camminare, è tipico del sabato e della domenica però è vero che il Salone sta a stupirci, ogni anno è il di più del di più dell'anno precedente. Presenti un libro, Cammino differente, Santiago, il Cammino è quello di Santiago. Uno di tre, se non sbaglio. Farei un po' un dietro le quinte di cui ne parlavamo un po' prima. Come nasce l'idea di scrivere questo libro e come nasce innanzitutto l'idea di partire per Santiago di Compostela? Allora, domani lo presentiamo qua. Al Book Club, sempre nell'area promossa da Camera di Commercio. All'area 18 no, l'idea nasce, io non sono un autore quindi faccio l'avvocato di per sé. Fai l'avvocato, cioè ti occupi, scrivi altre storie. Scrivo altre cose, noiosissimo. Nasce tutto da qua, forse un modo un pochino più per me che per le persone che, poi invece quello che ho scritto piace quindi sono contento. Nasce dal 25 dicembre del 2018, momento in cui mio padre mi fa un regalo meraviglioso, mi comunica della sua malattia. Da lì inizia questo percorso interno dove ovviamente ho dovuto gestire una perdita che per me non era sicuramente preventivata. Il cammino è una cosa che non conoscevo, pensavo fosse molto legato all'idea di spiritualità, di andare alla ricerca di Dio, di se stessi, queste cose qua eccetera. Quindi prendo, vado a comprare lo zaino e parto. Pensavo di essere da solo, in aeroporto mi trovo i miei due migliori amici che mi dicono ma scusa ma dove stai andando? Dove stai andando? Noi veniamo con te. Nessuno dei tre sapeva niente quindi non immaginavamo nulla di quello che avremmo trovato sul cammino e si chiama cammino differente perché è stato meraviglioso e su quel cammino incontri 150.000 persone tutte diverse, di nazionalità diverse, di estrazioni diverse ma tutti uguali. Come dico nel libro non ci sono maschere, non puoi avere maschere perché fai schifo fondamentalmente, hai un pantaloncino, sei ridotto veramente niente, quindi ti devi far vedere così come sei e ognuno con una motivazione. Quindi c'è veramente quello che va alla ricerca di Dio, quello che cerca di conoscere qualcosa. C'è chi fugge da qualcosa, chi cerca qualcos'altro. Qualcuno che non sa neanche perché è lì, qualcuno che lo fa per sport, per dimagrire, cioè qualunque cosa ed è molto bello. Con un grande rispetto per le motivazioni di tutti. Nel senso che nessuno si crede superiore perché magari vuole fare qualcosa di più importante rispetto a qualcosa. E anche con un grande ascolto delle motivazioni di tutti, perché il cammino è fatto poi per incontrarsi e raccontarsi quasi. Allora sì, senza chiedere. Nel senso che io quello che scrivo è una delle cose che alla prima tappa una ragazza di 80 fischi anni, una ragazzina che era partita da Antib a piedi, aveva perso il marito poco prima e mi fa non ho più niente da fare, cammino. E mi dice guarda l'unica cosa che ti consiglio, visto che l'avevo fatto con mio marito, l'avevo rifatto, quando incontri qualcuno non chiedere il motivo per cui hai partito. Se vuole te lo racconta lui, ci vuole rispetto. E questo in effetti è vero, perché sennò potrebbe essere un po' curiosità. E la curiosità di per sé non ce l'ha quasi, poi non generalizziamo. Anche perché noi di solito chiediamo ma non ascoltiamo la risposta. Non ci interessa. Se invece tu ascolti la domanda o lo spazio perché uno si racconti si crea da solo. È proprio così. Cammino differente. Sembra quasi impossibile fare il cammino di Santiago di Compostela senza scrivere un libro poi, che poi magari viene edito fortunatamente e anche meritatamente, come è capitato a te, ma di fatto resta un libro scritto nella memoria. A te che cosa ha lasciato? Poi in realtà questo è il primo racconto di una trilogia, però quali sono i punti fermi? Allora, in effetti io lo dico proprio all'inizio, nel senso che la tematica Cammino di Santiago viene scritta da chiunque fondamentalmente, cioè da autori mirabolanti al primo che passa di là. È il sottoscritto. Sei in buona compagnia. Direi sì. Io qui dico questo, non voglio dare consigli, non voglio spiegare cosa sia meglio, racconto solo la mia esperienza, come è andata e non la racconto erigendomi a vate in discusso del Cammino di Santiago. Quindi non ci sono sviluppi teologici o psicologici, è semplicemente quello che ho fatto e vissuto e le risate che ho fatto e gli incontri che ho potuto avere durante il Cammino. Questo è il primo di tre, perché? Perché il primo racconta del motivo per cui sono partito e del Cammino che ho fatto. Tornato a Torino, il corso che avrei voluto cambiare, nel senso che forse dentro di me quando sono partito volevo che arrivasse il miracolo, perché poi alla fine io dico sempre che ma non sono partito per quello, nella realtà i fatti io forse il miracolo lo speravo. È il miracolo che non è arrivato. E il secondo libro parla proprio di questo. In modo molto leggero, perché alla fine mio papà diceva sempre questo, la vita è un gioco e devi accettarne le regole, perché sennò esci. E quindi con leggerezza si tratta tutto e anche la perdita di mio papà. Con un incastro di una persona che ho conosciuto. Diceva Nietzsche che i greci erano profondi per superficialità, che non era la superficialità della banalità, ma era forse questa leggerezza che ci lasci intravedere. E poi il terzo è il come ho fatto i miei insegnamenti di questi due momenti. Quindi il cammino. Questa in realtà era la mia domanda con cui avrei voluto salutarti. Cioè questo cammino come è proseguito tra le vie squadrate della città di Torino? Perché il cammino di Santiago non è mai indifferente al proseguire, non solo a rifarlo, ma al proseguire in un'altra strada, la strada del quotidiano. E' molto difficile. Nel senso che quando torni, e questo non so se hai parlato con altre persone che hanno fatto il cammino, quando torni ti senti comunque un po' diverso. Non c'è niente a dire, sei molto disponibile a ascoltare, aiutare. E quindi devo dire la verità, quando tu cammini per Santiago, incontri persone sconosciute e buon cammino. E questi ti rispondono tranquillamente perché è quello, è un saluto. Tu vai a Torino e dici buongiorno. Il 90-200 non ti rispondono. Cioè credo ci sia stato solo un momento in cui ci si salutava tra le strade di Torino che era il 2006. Durante le Olimpiadi c'è stata questa ebrezza da socialità per cui tutti quanti per strada si salutavano quasi come a Napoli. E poi in realtà siamo ritornati a essere piemontesi. Sì, ma al detto di quello è proprio assolutamente. Però il concetto è l'indifferenza agli altri. Nel cammino di Santiago non sei indifferente agli altri. sei parte di un qualcosa che è più grande di te ed è bellissimo. Quando torni in realtà ti senti un po' sperso. Infatti ogni tanto se tu senti tutte le persone che sono andate a Santiago, a prescindere da credo, non credo, posto che c'è, c'è tanto, eh, di credo lì dentro, ritornano per ricaricarsi le pile. Perché secondo me c'è ancora tanto bello in questo mondo e semplicemente insomma la velocità della vita che conduciamo non ci fa ricordare, no? Determinate cose. Questo è un po' la cosa. E quindi il secondo e il terzo sono per dire ogni tanto ricordati Vittorio che lavorare, correre, cioè dal frecciarossa, dal finestrino del frecciarossa non vedi niente. Torino-Milano che porta, Torino-Roma, no? Che porta questo gruppo. C'è anche, allora, Cammino differente, Vittorio Maria Corelli, edito per le caravelle editrice, ma domani dopo l'incontro qua al Book Club vieni a salutarci. Saremo felici di continuare la nostra diretta con te. Buona giornata e buona continuazione a voi cari telespettatori.